Buongiorno e buon lunedì dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione Livorno. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Spostandoci in A1, code per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma. Code per traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e 1 km di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!